Buongiorno, bentrovati, buon martedì 3 agosto, memoria di San Pierre Giuliano Eymard, sacerdote francese del 1800, di straordinaria generosità e amore per l'Eucarestia, fondatore dei sacerdoti sacramentini e delle suore ancelle dell'Eucarestia. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione». Parola del Signore Il segno di Giona Varie volte nei Vangeli si parla del segno di Giona Gesù lo cita perché i farisei chiedono dei segni a Gesù ma egli dice che non sarà dato nessun segno a questa generazione malvagia se non il segno di Giona Qual è il segno di Giona? Lo spiega bene il Vangelo di Matteo Come Giona rimase per tre giorni nel ventre del pesce così il figlio dell'uomo resterà per tre giorni nel ventre della terra Il segno di Giona, quindi, è la morte e la resurrezione del Signore Morendo e risorgendo Gesù diventa il segno più grande del giudizio e dell'amore di Dio La morte e la resurrezione di Gesù dischiude pienamente il volto del Padre manifesta totalmente il mistero di Dio dona la salvezza all'umanità intera e questo segno deve essere riconosciuto e creduto non vi è segno più grande di questo per quella generazione malvagia ma anche per la nostra generazione malvagia è il segno del Crucifisso Risorto è la croce che è scandalo per i giudei stoltezza per i pagani ma per noi che crediamo è manifestazione suprema della potenza e della sapienza di Dio chiediamo quindi la grazia di riconoscere nella croce di Cristo il segno più grande dell'amore di Dio e di riconoscere che questo segno di salvezza che questo evento di salvezza è presente nel sacramento dell'Eucarestia che è il sacramento del sacrificio del Calvario riconosciamolo allora correremo all'Eucarestia perché comprenderemo che non si può vivere senza l'Eucarestia perché non si può vivere senza la Pasqua senza la morte e la risurrezione di Cristo preghiamo gli uni per gli altri buona giornata sia lodato Gesù Cristo grazie a tutti